salve gente bentornati oggi 16 dicembre 2016 proseguiamo con questo christmas countdown e oggi vado a parlarvi di questa fragranza americana che è una fresh la warm wall and mittens è una flash quindi non è una festiva di solito vi ho parlato di festive è uscita di una collezione che è uscita tipo cavallo del 2012 che si chiama my favorite things le mie cose preferite e ci sono diverse fragranze magari prettamente natalizie la descrizione ufficiale che dopo poi vi spiego poi capirete già dalla descrizione ufficiale e dice appena pulito appena lavato e riscaldato dall'asciugatrice dal termo da fare bene questa descrizione è un profumo accogliente con note di limone mela giglio e muschio è praticamente una delle parenti di clean cotton soft blanket a che miglia c'è anche la rainbow sand senza lacca davanti la rainbow sand e sa di pulito di vestiti puliti scusate puliti è una fragranza molto c'è da acce scusate e l'ho tartizzata da spenta è buona da accesa triplica la sua bontà cioè davvero è chi riempie proprio la la stanza di un odore che magari non può non piacere perché non a tutti piace questo genere di profumo e perché sa di pulito molto pulito però dal maglio è come quando apri ovviamente sono tutti queste fragranze sono tutte una diversa da quindi sono tutte anche se sono tutte di pulito sono marche tra virgolette diverse di pulito appunto sa di vestito morbido con lo sbuffo di ammorbidente sopra fondamentalmente il profumo che ti lascia l'ammorbidente quando ti arrivano proprio le ventate mentre ti muovi o quando magari stai parlando con qualcuno che a me succede di solito di sentire il profumo dell'ammorbidente dei vestiti degli altri non penso che sia una cosa brutta da dire cioè quando usiamo noi l'ammorbidente nei nostri capi dopo un po' ci sia a sue fai e non lo si sente più però si sente il profumo dei vestiti puliti degli altri ecco ecco il profumo piacevole perché a volte succede di incontrare chi puzza è il profumo piacevole dei vestiti lavati puliti profumati di altri riempie bene l'ambiente lo rende molto accogliente come ho detto e questa è la mia proposta per il 16 dicembre 2016 e ci vediamo domani con un'altra fragranza ciao